Le Camere Penali e quindi gli Avvocati hanno proclamato tre giorni di sciopero dall'8 al 10 maggio per protestare contro le riforme varate nel settore della giustizia penale. Fra i punti contestati dai penalisti le modifiche relative alla legittima difesa, la proposta dell'introduzione della castrazione chimica e la cosiddetta legge spazzacorrotti. Per gli Avvocati che hanno organizzato lo sciopero si tratta infatti di provvedimenti che nascondono finalità esclusivamente propagandistiche. La Camera Penale italiana evidenzia come gli Avvocati non siano schierati con i corrotti ma con cittadini presunti innocenti fino a sentenza definitiva contraria. Da qui la volontà di dare un forte segnale di allarme per quella che viene considerata come una sconsiderata ossessiva gara alla promulgazione di norme sempre più eclatantemente connotate da un'idea iperbolica e simbolica del più cupo e cinico populismo giustizialista. In concomitanza con lo sciopero il 10 e 11 maggio a Milano sarà anche stirato il manifesto del diritto penale liberale e del giusto processo.